Da una parte abbiamo fatto un'analisi molto puntuale, che è largamente condivisa, del fabbisogno impiantistico che ancora l'Italia ha per raggiungere gli obiettivi dell'economia circolare per quanto riguarda i rifiuti. Ci sono due grossi problemi italiani, uno è il turismo dei rifiuti all'interno dell'Italia, soprattutto dal centro-sud verso il nord, con costi particolarmente elevati che poi si riversano sulle tasche dei cittadini e l'esportazione dei rifiuti verso l'estero. Per risolvere questa questione abbiamo bisogno di diverse categorie di impianti, soprattutto impianti per riciclo, di tutto ciò che raccogliamo con la raccolta differenziata, ma anche secondo noi impianti come i termocombustori o qualche discarica per quelle frazioni di rifiuti che non possono in alcun modo essere riciclati. La seconda questione è una riflessione sugli strumenti economici per raggiungere questo obiettivo. Come sappiamo dovrebbero arrivare i soldi del recovery, c'è un piano di resilienza italiano, i rifiuti fanno parte a pieno titolo dell'economia circolare e ci sono alcune cose che vanno riviste. Noi proponiamo per esempio di introdurre una sorta di certificato bianco che attesti, che sia premiato economicamente, che attesti l'uso effettivo di materiali riciclati per esempio nella produzione di imballaggi. Dall'altra proponiamo di aumentare invece la tassa per i rifiuti conferiti in discarica, per scoraggiare l'uso della discarica. Bisogna usare gli strumenti economici per spingere di più i cittadini e le imprese verso l'economia piccolare. Bisogna guada Ancana guada Grazie Grazie.